Ma che c'è trega, ma che c'è porta, se lo sterpino ci ha messo l'acqua e noi è vivo, e noi è famo, ci ha messo l'acqua e non te pagano, ma però noi siamo quelli che gli rispondevo il coro, è meglio il vino che i castelli e questa zonza società Buongiorno ragazzi, buongiorno all'Andria che non vogliamo con Sabino Matera e Zippep benvenuti, ci risiamo anche oggi perché oggi vi mostriamo veramente il grande, grande valore della nostra città e dei nostri zonzoni Oh abbiamo sole, come oggi c'è una bella cucciolata che mi fa compagnia perché, 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 perché amici carissimi di Andria che non vogliamo oggi vi mostriamo, anzi, Zippep ha pensato alla gastronomia Zazzoni, a voi siete il numero uno per tutte le casalinghe, vi mostriamo e vi facciamo gustare qualcosa di prelibato, tante conserve per voi, guardate Mentre sole e i nostri cuccioli ci fanno compagnia in questa bellissima, bellissima giornata, come sempre Andria ci regala delle nuove emozioni il tutto parla da solo ragazzi, non possiamo commentare, possiamo solamente avere una rabbia interna per voi Zazzoni che ci state veramente rovinando, ci state facendo ammalare Non ci vuole tanto, carissimi a voi Zazzoni, prendete sta roba e andate all'isola ecologica e loro vi accorgono e vi fanno scaricare tutto e avete anche la coscienza pulita Bene, mentre gioco con i miei cuccioletti che mi fanno compagnia oggi e guardate che carini che sono, un bacino a poco Ok, mandate un bel saluto ai Zazzoni, mandate un bel saluto ai Zazzoni Ci vediamo alla prossima, al prossimo video perché c'è tanto da raccontare Ciao, 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 ciao